Oh, allora diciamo che possiamo partire in maniera ufficiale, ci siamo, siete pronti? Allora signori e signori, benvenuti qui al salotto a Lab, io farei subito un applauso perché loro sono pronti qui con noi, sto parlando di Black & Blue Radio, ma sarà una serata lunga perché poi avremo ancora la bottega acustica, avremo anche Esma, ci saranno insomma diversi ospiti, ma intanto come dire, do il benvenuto a Davide e alla sua band, ovvero Black & Blue Radio, welcome, è un lieto ritorno perché ce l'avevamo già visti, mi sa, questa primavera quasi, esatto, questa primavera, per so marzo mi pare. Prendiamola un po' ottimisti, sono cambiate delle cose, adesso non vi rompo le balle subito, le rompo poi strada facendo così è un po' più, hai capito, più lunga, con che cosa cominciamo? Cominciamo con Be Your Dog, la canzone del soundcheck. Oh, perfetto, almeno io diciamo sono già sentato sui suoni, ladies and gentlemen, Black & Blue Radio qui al salotto. I want to be your dog, I want to be the shadow in your room, wherever you go, I'll be by your side, please let me be your dog. I want to be your dog, I want to be your dog, leave me scream and scare me, I'm lost at all, I promise always be there, and I can use the right words, I can only be your dog. You're the only one that feeds me, I told you so, you're the only one that makes me feel alive. You should kick out ignore me, as the last you all know, but I'll always be yours, I'll always be yours, I'll always be yours. I want to be your dog, I want to be the shadow in your room, wherever you go, I'll be by your side, please let me be yours. You're the only one that feeds me. I told you so, you're the only one that feeds me feel alive. You should kick out ignore me, as the last you all know, but I'll always be yours, I'll always be yours. always be grazie black and blue radio allora come dire bentornati Davide io abbiamo accennato il fatto che siete venuti giù questo inverno a presentare l'album era appena cominciata l'avventura adesso non è che ti chiedo di tirare dei bilanci però visto che avete fatto un po' di strade insieme ce l'abbiamo registrato hai voglia di presentarci tutta la band tutta questa allegra brigata che fa black and blue radio come siete configurati? alle tastiere al basso c'è Alex che ha contribuito parecchio anche lui alla lavorazione del disco alla chitarra c'è Joy che ha curato il 90% della produzione di questo disco che è stato il mio primo disco il primo EP diciamo di debutto completamente autoprodotto e nonostante tutto ha funzionato molto bene nonostante non sia tra virgolette commerciale tu hai detto autoprodotto ma anche autodistribuito nel senso magari adesso è detta male però nel senso che tu vai a sceglierti i negozi dove si può trovare poi il tuo disco esatto io vado nei negozi chiedo di ascoltarlo e se a loro piace lo distribuiscono la figata è che si può trovare tra Torino Milano e Roma nonostante non abbia nessun tipo di etichetta nessun tipo di sponsorizzazione però ci sono dei negozi allora dici almeno quello di Torino Torino è Rock'n'Folk che è il negozio storico ed è per me è un privilegio perché ci ho comprato non so una marea di dischi una marea di bootleg e adesso sapere che lì c'è il disco mio nostro non pareggerei mai comunque con quello che hai speso da Rock'n'Folk assolutamente no va bene adesso ci sono altri discorsi va bene senti il prossimo brano è sempre estratto dal tuo album come si intitola? il prossimo brano si intitola Monsters ed è il primo singolo quello che ha lanciato Out of Time che è il disco di debutto diciamo così benissimo benissimo allora Black & Blue Radio scusa ci siamo dimenticati alla batteria lui non ha collaborato alla registrazione del disco ma è e allora l'hai punito un po' così diciamo pubblicamente esatto esatto e poi magari lui voleva suonare ma avete messo delle batterie elettroniche adesso non andiamo a indagare no però la cosa figa sua è che dal punto di vista live ci siamo trovati molto bene subito tutti insieme ed è una forza nonostante delle volte si dimentichi le varie ritmiche e dobbiamo riprendere tutto da capo però allora aspetta presentacelo Davide facciamogli un applauso perché last ultimo ma non più l'ultimo va bene allora adesso che ci conosciamo un po' meglio un prossimo brano di Black & Blue Radio qui dal vivo al salotto a Lab I see monsters day by day in my day dreams I see something weird when they look at me and I see monsters monsters is what I see and I see monsters monsters are there for me I don't know exactly what is they name but I know every day but I know every day they are always the same hello monsters what do you want from me I hate you monsters monsters that I used to be and I turn into a monster when I open my eyes when I fight with my shadow in a sunny July hello monsters why aren't you part of me I see monsters show me I'll come get free a little bit I got scars on my arms to remind me when I've been in a forest and I pass through all my nightmares You monsters, monsters are you and me And I see monsters outside this cage I'm free Monsters, questo è un pezzo abbastanza scuro anche, del resto il titolo mi sembra che non ci stiamo parlando di scherzetti da giostre. Allora per il prossimo brano se non sbaglio tra poco potrebbe esserci una sorpresa di carattere diciamo immaginifico, immagini in movimento, può essere, cioè che ci sia un video in cantiere. Esatto, abbiamo realizzato, nonostante l'album sia uscito ormai a dicembre fa un anno, ho pensato che questo disco avesse ancora parecchio da dire, allora ho deciso di realizzare un video insieme a loro perché il primo video è stato girato a Roma e loro non c'erano, invece quest'altro l'abbiamo girato a Torino. Dovrebbe uscire domani, non è il condizionale. Potrebbe uscire domani, cosa dobbiamo cercare poi domani? Su Facebook o su Instagram, Black & Blue Radio, ci sarà un'esclusiva da parte di qualche sito diciamo così, manteniamoci generici, su questo brano che si chiama Untitled Black & Blues. Da un certo punto di vista, nonostante strategicamente non era il massimo realizzare un video dopo quasi un anno dall'uscita del disco, però nel momento in cui l'abbiamo realizzato e abbiamo cominciato la promozione, sono arrivate parecchie cose interessanti. Se seguite poi la pagina ci saranno un sacco di altri live, delle interviste, ci saranno delle cose molto divertenti dal punto di vista musicale. Bene, quindi potrebbe essere però che a questo punto pubblichiamo prima noi un video, diciamo di voi con la full band che suonate questo brano, però quello ufficiale sappiate che deve uscire domani o giù di lì. Adesso noi comunque cerchiamo di rubarvi l'anteprima perché suonate proprio dal vivo qui, signori e signori, Black & Blue Radio qui al Lab e al Salotto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.